Momento di riflessione e confronto ad Ortezzano in cui l'imprenditrice Graziella Ciriaci con l'amministrazione comunale ha voluto quest'anno un convegno prima della tradizionale cena sull'Aia dal titolo la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani tra innovazione, tradizione e sostenibilità. Sì abbiamo voluto fare un momento di attenzione e dare attenzione soprattutto a tutte le nostre eccellenze e far sì che comunque con una catena di operatori ben composta possa essere una catena di supporto e comunque anche una catena che ci porta lontani. Io sono molto felice oggi che si possa fare il punto sui prodotti tipici del nostro territorio perché forse li sottovalutiamo e invece dovremmo fare come gli stranieri innamorarci ogni volta di questi nuovi sapori e renderci conto che sono dei sapori eleganti. Noi spesso siccome li colleghiamo alla tradizione contadina per qualche motivo nel tempo li si è relegati ad un livello come posso dire più basso, invece no, questi sono i sapori che fanno la differenza, sono i sapori che ci raccontano. L'agroalimentare che in Italia fa registrare 620 miliardi di euro con 64 miliardi di export annovera nei borghi delle Marche tante aziende d'eccellenza a cui corrisponde però un momento difficile per le piccole e medie imprese a causa delle tante condunture internazionali e da qui la necessità di una filiera istituzionale a supporto del settore. L'AMAP si occupa di filiere e la filiera più importante è quella istituzionale quindi mettersi su un tavolo e porsi degli obiettivi ed insieme ognuno per il proprio ruolo, cercare in sintesi di risolverli secondo me è la ricetta migliore quindi noi abbiamo un settore da valorizzare e nel farlo in maniera condivisa è il modo migliore. La valorizzazione del territorio passa attraverso testimonial d'eccellenza come i prodotti della tradizione rurale che attraggono turisti e visitatori e che portano economie nei borghi marchigiani. Sì, un borgo che unisce le sue tradizioni a quelle delle eccellenze gastronomiche e che fa conoscere questo nostro territorio anche al di fuori della regione Marche, eccellenze che sono legate all'agricoltura, alla produzione di qualità ma anche a una tradizione importante di cui noi siamo fieri e che vogliamo difendere orgogliosamente.